Criticità progettuali e manutenzione carente alla base della fauna lungo la E45 dello scorso febbraio tra l'uscita di Pieve Santo Stefano Nord e Sud, questo quanto emergerebbe dalla superperizia disposta dalla procura di Arezzo sul tratto interessato dall'improvviso crollo. Le poche centinaia di metri di manto stradale che hanno ceduto sono state infatti analizzate da alcuni esperti incaricati dal procuratore capo Roberto Rossi. Per la commissione tecnica formata dagli ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè e dal geologo Simone Mancini, dunque la frana sarebbe stata causata da un cedimento strutturale della E45 e non da un problema geologico. Dunque prima sarebbero stati i difetti di progettazione e poi la scarsa manutenzione ad aver portato al clamoroso cedimento della piazzola della superstrada. Questa solamente una prima anticipazione del corposo rapporto redatto dai tecnici incaricati dalla procura di Arezzo. Al momento il procuratore Rossi sta lavorando a due filoni di inchiesta sull'E45, uno condiviso con Forlì che vanno dall'attentato alla sicurezza dei trasporti, fermo all'avviso di chiusura indagini, al disastro colposo fascicolo ancora contro i gnoti. Grazie a tutti.